Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Oggi riprendiamo Motor Town Behind the Wheel, un gioco davvero sorprendente perché già lo pubblicai 14 di dicembre 2021 e quindi forse a fine anno potrebbe uscire un 1.0, siamo arrivati al 0.6. È un gioco sorprendente perché i più attenti avranno notato un ottimo sistema di fisica, un'ottima libertà di gioco, calcolando che penso sia un solo programmatore a farlo o comunque in pochi, e i meno attenti insomma lo avevano ai tempi criticato dicendo che cosa porti questa roba. Il gioco praticamente ha la possibilità di creare il personaggio e il personaggio livellerà con noi in base alle cose che faremo, potremmo fare taxi, guidare bus, guidare camion, fare gare, autotrasporto insomma, e polizia. Facendo le varie cose livelleremo e praticamente livellando potremo fare incarichi di livello successivo, ma non è finita qui perché adesso la cosa che devo ancora chiarire è che posso andare in debito quindi se facciamo un disastro con l'auto possiamo ripararla andando in debito. Ovviamente in debito non possiamo andare ad acquistare nuove cose, credo, presumo. Comunque il gioco ci permette di fare il time attack con l'auto che possediamo al momento, una gara, oppure joinare una sessione online. La cosa interessante è che potete ostare il server e giocare con amici, ma le auto che comprate, perché in gioco potete diciamo spawnare, far spawnare i vari veicoli per fare le missioni, quindi incontrate il bus, la stazione di bus, potete spawnare un bus e vi parte la missione e questo vi permette di fare soldi, come vedete qua. Ma tante volte non potete spawnare i bus perché non avete il livello di guida richiesto, quindi è molto interessante questa cosa. Qui c'è il furniture shop che credo potrebbe anche non essere utilizzabile, però vediamo. Sì, non è invece utilizzabile. E perché utilizzabile? Perché noi possiamo comprare anche una casa. L'utilità non lo so ancora, probabilmente al momento sicuramente il letto, perché potete dormire e far passare il tempo. Avete il parcheggio dove potete prendere la vostra auto. La mappa è questa, per chi non avesse visto il video precedente di un anno e mezzo fa. Qua c'è il circuito, lo speedway e il gioco è pieno di incarichi da autostoppisti, taxi, bus, truck, trasporto adottami, polizia, ambulance, quindi l'ambulanza, il delivery e basta, è così, trailer. Insomma, potete andare a comprare le auto, adesso andiamo a vedere, fare benzina, comprare roba, truck job. Sono tutti i job vari che possiamo fare, oltre che i trasporti. La cosa interessante ve la faccio vedere tra poco, perché io ho picchiato la macchina, ho un danno alla carrozzeria, infatti in basso a destra vedete la scocca dell'auto gialla. Ma la cosa più interessante è che, adesso devo invertire la marcia, è che ha un sistema fisico, come vi avevo già fatto vedere un anno e mezzo fa, davvero notevole. Potete cambiare lo visuale e vedere l'interno, questo vuole un passaggio, si vede chiaramente, che si sbraccia. La cosa interessante è che, sopra il tachimetro, vedete tutte le icone. Le icone indicano i danni che ha la macchina, perché? Perché se, questo è il car dealer, ve lo faccio vedere, perché se voi andate a sbattere, cosa che faremo adesso, potete andare a guastare il radiatore, ad esempio, e subire l'innanziamento della temperatura dell'acqua dell'auto. E questo vi porterà a dovervi fermare ogni tanto. Allora, questo è un mezzo che potete comprarvi. Devo ancora capire a cosa serve, nel senso se potete noleggiarli, ma probabilmente vi potrebbe facilitare i lavori che andate a fare. Queste sono le auto che potete acquistare, compresa la supercar da 300.000, e nel recente aggiornamento, cosa che mi ha fatto tornare su questo gioco, hanno aggiunto la prima auto a guarda scoperta. Una sorta di, non dico Formula 1, ma una sorta di skip barber, per chi conoscesse il mondo delle auto scoperte. Quindi potete andare poi a utilizzarla nelle gare in gioco, nella modalità a parte racing e anche online. E vi salirà la vostra capacità di guida. Allora, io adesso faccio una prova andando addosso a quel moretto lì. Vedete che io vado e vado addosso. E mi si è guastato il motore, la carrozzeria e soprattutto il radiatore. Quindi, vedete che la temperatura dell'acqua adesso già sta salendo. Io adesso potrei attivare le quattro frecce, in modo da segnalare il mio disagio. E possiamo proseguire lungo la strada e andare a visitare l'auto riparazioni. Che credo mi stia già targettando. No. Abbiamo pick up a cargo. Ci sta dando un compito, ma è una cosa che noi non faremo. Il mondo è un mondo aperto, un open world, dove possiamo andare a guadagnare soldi. Ora andremo a spenderli, perché ci indebiteremo ancora di più all'auto riparazioni. Vedete che poi il mondo è vivo, ci sono altri che lavorano. Insomma, questo è il car turning, dove possiamo andare a riparare l'auto. L'auto la possiamo riparare. Questa è un'auto che non mi piace più di tanto, perché... Repair. E vedete che qua la riparazione mi costa 106, andiamo in debito. Non so fino a quanto si possa andare in debito, comunque possiamo cambiare il veicolo, ma non ne abbiamo altri. Quindi non possiamo desponarlo. Paint parts. Possiamo potenziare le parti del motore. Aumentandogli i cavalli. Andiamo a mettere questa da 320 cavalli, mi costa 30.000. Chissà se posso prendere questo debito. No, evidentemente no. Sì, forse sì. Vediamo. E questo sarebbe un po' anche un peccato. Però vedete che mi serve guida 10, quindi non posso equipaggiarlo. Volessi equipaggiare... Vedete, guida 2. Quindi hanno tutti dei requisiti. Potrei depotenziare l'auto. Potenziare la 100... No, non possiamo. Cioè, probabilmente se lo faccio non... Non potrò più guidarla. Vediamo se c'è altro che è interessante. Coolant radiator. Final ratio. Poi si possono modificare le marce. Al momento nelle auto da gara ho letto che si possono modificare solo minime parti. Tra cui anche il rapporto delle marce. Voglio le gomme. Off-road, drift, performance, low profile tire. Vediamo se... Ma scusate, mi fa vedere quelle che ho installato. Vado a installare queste. Posso pagare? Not enough money. No, ok. Il credito è finito. Poi dovremmo ricominciare la partita, probabilmente. Ovviamente poi possiamo andare qui nei camion e sponarne uno. Qua abbiamo... Vedete, adesso mi sta dando questa missione perché? Perché io ho scelto di sponare questo camioncino qui. Io scendo dall'auto, salgo sul camioncino e poi andiamo. Drive. E possiamo andare a caricare il carico Pickup Delivery. E possiamo andare a piazzare... Load. Carico di carote. Distanza 4,4 km. No. Vedete, è carino perché possiamo andare a caricare. Questo non possiamo perché non ci sta. Dovemmo saldare il nostro debito. Quindi possiamo caricare Power Box. Load. Uno. No, non mi interessa. Mi serve qualcosa che sia piccolo. Mele. Ma continua a cambiare? Eh, mannaggia. Però me ne servono due piccolini. Carote. Uno. Due. A due chilometri e otto. E poi... Oddio, mele. Perfetto. Ci sta ancora qualcosa? Altre carote. E possiamo andare a fare questo compito qui. E andando a consegnare le cose. Ok. Ci vi ho insegnato... Stiamo slittando. Cioè, vedete che c'è l'antipattinamento. Visuale dall'interno è questa. E la cosa che io se uncastre mi ricordo che scrisse in questo video è che era ottimo il sistema di peso, di baricentro, insomma, del mezzo. E quindi adesso stiamo andando a cercare di ripagare il nostro debito. Vedete come si muove la roba all'interno del furgone? Tra l'altro penso che nel nostro inventario... Ah, qua è un altro venditore di auto. Molto interessante. Credo che all'interno... Noi abbiamo le cinghie, due. Possiamo metterle. Strap cargo. Ok. In modo da non farle muovere. Credo sia finita così. Adesso risaliamo a bordo. Fermati! Per Dio! Drive. Ok. Adesso tecnicamente non si muovono. Vediamo la mappa. Il gioco si mette in pausa. È un bel percorso che dobbiamo fare perché dobbiamo andare dall'altra parte della city. Tra l'altro sono destinazioni diverse quindi bisogna... E c'è anche limite di velocità. Ora vediamo se superando il limite la polizia ci dà un multa. Limite 70. Eh sì. Fantastico. Fantastico. Ha messo i lampeggianti. Ci sta venendo a prendere. E noi accostiamo giustamente perché abbiamo superato i limiti. Costa 20 euro il gioco comunque. Per quello che può interessare. Ok. Multati. Non ho visto di qua. A 100. Però adesso io faccio la recidivo e sforo i 70. Polizia è andata via. Ci ha visto. È perché vedete che ci sono lì in basso a sinistra sulla mappa i limiti di velocità. Quindi lì c'è un altro carico da prendere. Questa è un'ambientazione molto bella. Contadina fuori dalla città. Lì c'è un'auto stoppista. E noi però dobbiamo girare da questa parte. Quindi. È possibile anche impostare la modalità sport. Drift. Comfort. Che cambia anche la potenza dell'auto. Adesso siamo in modalità comfort. Quindi va molto meno sgasando. Poi è una modalità che secondo me io avrei messo solo sulle auto. Tipo quella che avevamo prima. Le auto sportive. Non sui furgoni. Però vabbè. Possiamo mettere l'autopilot dove lui guida al posto nostro. Abbiamo le luci. E vedete che si accendono proprio tutte le luci. Prima abbiamo gli anabaglianti. Poi gli abbaglianti. Il mondo è vivo. 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 Veramente. Si vede gente che va in giro. Lavora. Fanno i loro trasporti. Metto in modalità comfort. Che mi abbassa i giri. E non mi sgasa come prima. Probabilmente una volta consegnato qua. Il limite è 110. Quindi possiamo un po' esagerare. Mi ricordo che quando avevo rotto l'auto. Avevo il radiatore andato. Io mi ero messo nella corsia di là. E mi passavano tutti. Mi ha passato una mini Cooper. A una velocità folle. Ed è molto interessante come cosa. Perché questo è una perla secondo me. Perché non è un gioco che ha un obiettivo ben preciso. Ma punta tutto sui record. Come in questo caso vedete. Sono tutti i dati che vengono poi caricati sulla pagina principale del gioco. Dove potete confrontarvi nelle varie professioni con gli altri utenti che giocano a questo titolo. E con i vari risultati. Quindi i tempi che fate sulla pista. Piuttosto che i tempi di consegna. Le varie cose vengono tutte segnate in un ladder board. Che potete consultare dalla pagina principale del gioco. E niente questo. Adesso stiamo andando alla fine della... Qua c'è l'ambulanza. Possiamo fare anche questo lavoro qui di ambulanza. Quindi probabilmente dovremmo recuperare qualche persona. E portarle in ospedale. Abbiamo la polizia lì. Ce l'ha con me? No. Sì. Probabilmente sì. Ma non so il motivo. Probabilmente ha visto che facevo qualche sorpasso azzardato. Abbiamo una destinazione qui però dice. Quindi proviamo ad andare qua. Magari dobbiamo consegnare qualcosa qui. Erano tutte destinazioni abbastanza lontane però... Andiamo a stare la polizia bene a prenderci qui. Questa è una. Ok. Abbiamo consegnato qualcosa. No. Non voglio questo... Missione da Taxi. Vedete sotto la linea viola. C'è la linea gialla. Perché la linea viola probabilmente mi ha settato qualche lavoro che ho accettato accidentalmente. Quindi... Ci hanno pagato tanto però. Quindi stiamo diminuendo il debito. La polizia... Cosa vuole da me? Niente. Sì, probabilmente vuole qualcosa da me. Però io non ho tempo. Voglio tagliare di qua. Perché così faccio prima. Probabilmente la multa aumenta. Più scappo ma... Non so cosa ho fatto. Però è bellino perché probabilmente ho giocato anche col pad. Deve essere ancora più figo perché... Regolate bene la velocità. Lo sterzo insomma guidate tranquilli. Però guidare tranquilli paria perché... Evitate le multe come sto facendo io. Forse dopo questa consegna... Avremo saldato il debito. Qua comunque abbiamo la stazione dei bus. E il gioco essendo co-op si presta molto alla giocata in compagnia. Anche perché credo ci sia... Oltre alla possibilità di comprare le case... Forse di comprare anche le compagnie. Perché ho visto un menu company... E non ho approfondito insomma. Ma questo è giusto per dirvi che... In gioco va approfondito. Non è banale. Ed è il messaggio che voglio che passi da questo... Da questo video. Cioè il gioco sembra banalotto visto su Steam. Ma non lo è. Ed è il messaggio che volevo passasse anche l'altra volta. Quando feci il primissimo video. Il gioco è appena uscito. Ok abbiamo saldato il debito. E ora abbiamo a 2,1 km l'ultimo passaggio. Ovviamente la partita è impostata col ciclo giorno-notte. Il ciclo giorno-notte dura 30 minuti. Quindi io avevo già giocato più o meno un 15-16 minuti per conto mio. E adesso ricomincio la capo. La cosa bella che mi aveva un po' preoccupato è che quando voi uscite dalla partita e io state la partita per voi stessi. Temevo che... Diciamo l'auto danneggiata tornasse a posto. E questo sarebbe stata una cosa un po' brutta. In realtà non è così. L'auto ve la tenete rotta. Quindi adesso io ho l'auto rotta. No. L'ho riparata. Però mi è costata tantissimo. E quindi... Devo tenerla lì bene. Perché poi magari me ne comprerò un'altra. Magari più bella da corsa. Questo furgoncino qui non so se me lo addebiteranno alla fine del lavoro. Ma penso che questo qui lo potete lasciare dove volete. Perché lo affittate diciamo solo per fare questi lavori. Lo fate sponare ed esponare dalle varie location. Quindi lì c'è un autostoppista. Viene tutto segnato sulla mappa. Mille cose da fare. Ovvio che quello che vi spinge a fare questi lavori ripetitivi è l'aumento della sfida man mano. Perché comunque quando trasportate carichi magari molto voluminosi, molto pesanti, in zone impervie diventa sfidante come gioco. Ovvio che quello che fate sono trasportare i carichi, trasportare gli autostoppisti, le missioni di polizia dove dovete penso arrestare gente o multare. L'ambulanza, salvare le persone, il taxi, stessa cosa degli autostoppisti. Ma la cosa che vi trarrà incollati è, uno, la voglia di guadagnare soldi per sbloccare cose maggiori, comprare vie auto, sbloccare lavori più belli. E due, appunto, la diversità delle situazioni che andrete ad affrontare. Poi, ovvio, se vi annoia il trasporto, la guida e lo svolgere incarichi di questo tipo, il gioco non fa per voi. Però è un indie che è stato aggiornato tantissimo e meritava un approfondimento, insomma, un aggiornamento. Il furgoncino adesso è quasi inutilizzabile perché si scalderà l'acqua e perderà potenza, quindi noi consegniamo l'ultimo carico. Siamo in positivo. Questo qui credo lo possiamo mollare dove vogliamo, perché tanto non... Poi non ci sono collisioni con le persone, quindi non c'è problema. Io questo non me ne frega niente. Lo mollo qui, con Z poi scendete. Leave this vehicle, yes. Qua possiamo far spawnare un veicolo e vedete che non tutti... Ah, lo spazio è già occupato, perché probabilmente abbiamo questo, ma non lo possiamo guidare, credo. Questo possiamo... Richiede livello 15 di trasporto pesante. Livello 10. Eh, di trasporto pesante non abbiamo niente. Abbiamo livello 2 di guida, però. Qua c'è il pesce, cioè è ricco di dettagli, comunque. Io posso despunarla, sta macchina. O scomparirà per conto suo. Control panel. Company. E vedete la company qui, non so cosa sia. Drive mode. Passenger. Cargo. Ah, posso accendere le luci interne. Vehicle info. Roadside service. Posso farlo trasportare o fare refuel. Ok, questo è un peccato perché a me piace tanto andare a fare benzina con i mezzi, ma va bene. Eh, niente. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo titolo. Adesso vedete qua, si torna al menu principale dove c'era quello che vi dicevo. Adesso qua non si vedono, non so il motivo. Probabilmente esce quando avviate la prima volta con tutti i dati degli utenti. Qua tutti i livelli che potete fare e i soldi che abbiamo. Meno male non è difficilissimo, però insomma, nelle opzioni potete attivare i vari assist in varie modalità di guida. I controlli sono questi. Potete anche andare a usare lo shifter, quindi cambiare marcia voi stessi. Quindi il gioco è piuttosto profondo. Questo è la Motortown Behind the Wheel. Un aggiornamento dopo un anno e mezzo dalla rilascio. È uscito a dicembre del 2021 e io avevo portato il video in quei giorni lì. Gioco sorprendente. Assolutamente aggiornato benissimo, spesso. Sono state aggiunte tante cose. Merito allo sviluppatore. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate di questo aggiornamento. E ripeto, come ho detto all'inizio del video, se siete arrivati fin qui, se avete qualche nome per una rubrica che può diventare una rubrica fissa, dove quando mi gira provo un gioco, lo ripesco e vedo com'è cresciuto. Ovviamente non vi faccio perdere il tempo. Poi vi porto i giochi che sono cresciuti bene, insomma. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.